Vediamo ora le funzioni personalizzate che permettono di salvare in modo permanente le ricerche Per utilizzare le funzioni personalizzate dobbiamo identificarci in EBSCO cliccando in alto su Sign in La prima volta bisogna creare un account cliccando su Create a new account e registrandosi Fatto questo basterà identificarsi Adesso entro con le mie credenziali Login Per salvare la ricerca bisogna selezionare Search History Qui vengono registrate le ricerche fatte nella sessione Se chiudessimo il browser non ne rimarrebbe traccia Seleziono la ricerca che voglio salvare Ad esempio l'ultima che abbiamo fatto quindi la seleziono e a questo punto devo selezionare il bottone Save Searches Alerts Do un nome alla mia ricerca ad esempio Pubblicità Anziani A questo punto scelgo se voglio salvare permanentemente la ricerca o creare un alert cioè se voglio ricevere nella mia mail personale gli aggiornamenti su questa ricerca Adesso salvo la mia ricerca cliccando su Save Search Permanent Save La ricerca è stata salvata Cliccando su Continue Accedo alla mia pagina personale In My Folder trovo tutto il materiale che ho salvato quindi qui vediamo le ricerche salvate e qui vediamo le ricerche salvate e qui vediamo le ricerche salvate